Oltre 200.000 euro ogni mese solare con una squadra di bevitori di caffè. Potente, ok? È stato premiato l'anno scorso in Florida. Chi c'era a vedere la premiazione? Ok, molti di voi c'erano. È stato premiato con l'un anello che simboleggia che ha guadagnato nell'anno solare, da metà 2015 a metà 2016, una cifra che va dai 100.000 dollari ai 250.000 dollari, ok? In un anno solare. Un ragazzo giovanissimo, 23 anni, e pensate che in quell'occasione non solo è stato premiato con quell'anello, ma anche gli è stato dato un simbolo, ok? Gli è stato dato un premio, un incarico, che simboleggia che lui è il King of Coffee, ovvero la persona indicata come rete di caffè in tutto il mondo dall'azienda, ok? In un'azienda con migliaia e migliaia e migliaia di distributori, la persona che sto per chiamare è stato nominato King of Coffee per quest'anno. Ce l'abbiamo qui a Verona, direttamente da Houston, Texas, il Superstar Ranger, centro di camera enver, Ciacomo Drakowski! Grazie, grazie. Buonasera a tutti! Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Can you give yourself instruction? Can you give yourself instruction? Yes. Every time I ask somebody about my business at the beginning. all of the people in the beginning. the answer was no. 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 Three times. All of the answers were no. 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 My first check was $5.70. I really paid $15.76. You made more than the first check. What question did you do? You all did better than me. No, non mi ha detto questo business non funziona. Quello che ho detto è questo business ha bisogno di sforzi per funzionare. Mi sono sforzato così tanto quando le cose vedono che non funzionavano. Fino alla terza mese del mio business ho fatto ogni settimana, ogni terza mese di debità, un pagamento settimale di 1250 dollari. Tutti gli sforzi degli ultimi tre mesi sono arrivati nello stesso mese. Quella per me era la conferma che questo business funzionava. Così ho detto che per i prossimi tre mesi andrò solo all in. Per tutta l'estate ho lavorato 80 ore a settimana per un corto periodo di tempo. Ho eliminato la mia vita sociale, amici, compleanni, ragazze, tutto. E la mia più grande cosa era quella di essere di successo in questo business. Anche 6 mesi andrò in questo business. Anche 6 mesi andrò in attività. E mi sono qualificato per il Mercedes programma di Organo. A 18 anni. E questa qua era un'altra grande conferma per me. Per i primi 18 mesi della mia attività ho lavorato più giuro di qualsiasi attrappassionale della mia organizzazione. Ho lavorato più veramente di tutte le persone che conoscevo. E 18 mesi in attività. E' un'altra mercedezza. 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 Parafondo alle persone. E' un'altra mercedezza. E' un'altra mercedezza. Porca male e ogni persona la maniera. Per ogni qualsiasi klavore 지난. E' due anni per i primi 18, 24 mesi. Che trovavo sports, ovviamente quello che ne diffDIA. E' a due anni per la natività. E' un'altra mercedezza. Ad una terza come casa. e a 20 anni avendo lavorato giorno dopo giorno ho stato capace di comprare una casa adesso 5 anni e mezzo dopo da quel giorno ad inizio avevo una visione essere capace di stare in salute e Organo ci dà la possibilità di fare questo di svegliarmi quando ho finito di dormire non so a che ora ora svegli chiediamo a qualsiasi persona che fosse stata con me questa settimana io non ho fretta quando hai la libertà non fa più di tempo tu prendi la tua agenda non so cosa vuol dire con stress chi vuole questa vita? si? 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 voglio veramente la pace in Italia spero sentermi bene in ogni situazione voglio essere capace di viaggiare in Italia, Londra, 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 Londra in tutto il mondo e voglio la libertà finanziaria oggi Organo mi paga un income possibile tra i 15.000 e i 20.000 dollari a mese saresti disposto a mettere 3 anni veramente duro lavoro che così per il resto della tua vita qualsiasi cosa vuoi spiegare non importa se è la mia visione o la visione di qualsiasi altro personale magari vuoi donare tutti quelli che ti fa odiare la carità o vuoi solo crescere la tua famiglia Organo ti permette di fare questo abbiamo un metodo di compensazione veramente differente in un lavoro normale, in un lavoro normale, è lavoro, lavori, pagato lavori, lavori, pagato non lavori, non lavori, non pagato in Organo è molto diverso it's lavori, 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 lavori Ul고 5.80 c Trentino 5.80 c Installate lavori, 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 lavori Medium pagato non agosto E dopo è lavori, 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 lavori pagato. E dopo è lavori, lavori pagato. E dopo è lavori pagato. E molte persone mollano esattamente adesso. Oh, I've been doing this for three years and I'm not making a million dollars. But when you strike gold, like Mr. Luca Campagnari and so many of the amazing leaders in Italy, how? Ma quando veramente vai e decide andare con il nostro grandissimo Luca? It's labore pagato, 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 pagato. Pagato, 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 pagato. Grazie a tutti, papà! Adesso! Grazie a tutti, ragazzi. Grazie a tutti.